Persi. Bob era davvero bravo a usare la scopa. La brandì avanti e indietro, distruggendo le arai una dopo l'altra, mentre Bobbino restava appollaiato sulla sua spalla, inarcando la schiena e soffiando contro le megere. In una manciata di secondi erano scomparse. La maggior parte di loro si era disintegrata. Le più furbe erano volate via nell'oscurità, urlando terrorizzate. Persi avrebbe voluto ringraziare il titano, ma gli mancava la voce. Le gambe gli cedettero, le orecchie presero a ronzargli. Attraverso un rosso bagliore di dolore, vide Annabeth a qualche metro di distanza vagare alla cieca verso l'orlo del precipizio. Pese un braccio, provò a gridare per avvertirla, ma gli uscì solo un flebile gemito. Bob seguì la direzione del suo sguardo. Raggiunse con un balzo la ragazza e la prese in braccio. Annabeth gridò e cominciò a scalciare, bersagliando il titano sullo stomaco, ma lui sembra non farci neppure caso. La portò da Persi, che era mise giù delicatamente. Annabeth smise di lottare. Dove... cosa... le tornò la vista, e una serie di espressioni diverse le balenarono sul viso. Solievo, gioia, shock, orrore. Cosa ti è successo? gridò nel vedere Persi. Lo prese fra le braccia e pianse fra i suoi capelli. Lui avrebbe voluto dirle che andava tutto bene, ma ovviamente non era vero. Non riusciva neanche più a sentire il proprio corpo. Era cosciente, ma i suoi pensieri erano come chiusi in un palloncino attaccato alla meglio in cima alla testa, senza peso né forza. Il palloncino continuava a dilatarsi, diventando sempre più leggero. Persi sapeva che entro breve sarebbe scoppiato, oppure si sarebbe spezzato il filo, e la sua vita sarebbe fluttuata via. Annabeth gli prese la faccia tra le mani, lo baciò e tentò di togliergli dagli occhi la polvere e il sudore. Bob si stagliava sopra di loro, con la scopa piantata come una bandiera. Il suo volto brillava candido nell'oscurità. Aveva un'espressione indecifrabile. Un sacco di maledizioni, disse. Persi ha fatto brutte cose, i mostri. Puoi guarirlo come hai fatto con me, lo supplicò Annabeth. Guariscilo, ti prego! Il titano corrugò la fronte. Si grattò la targhetta del nome sulla divisa, quasi fosse una crosta. Annabeth tentò di nuovo. Bob! Giappeto, disse il titano, la voce simile a un sommesso rombo di tuono. Prima di Bob, ero Giappeto. L'aria era immobile. Persi era inerme. Si sentiva malapena collegato con il mondo. Io preferisco Bob. La voce di Annabeth era stranamente calma. Tu quale preferisci? Il titano la fissò con i suoi occhi d'argento puro. Non lo so più. Aveva un'espressione afflitta e stanca, come se all'improvviso sentisse sulle spalle il peso di tutti i suoi secoli. Si accovacciò accanto ad Annabeth e osservò Persi. L'ho promesso, mormorò. Nico mi ha chiesto di aiutarvi. Credo che né a Giappeto né a Bob, piaccia infrangere le promesse. Toccò la fronte di Persi. Ai! Persi tornò nel proprio corpo. Il ronzio alle orecchie svanì. La vista gli si schiarì. Si sentiva ancora come se avesse ingoiato una incitrice. La pancia gorgogliava. Avvertiva chiaramente che l'effetto del veleno era stato solo rallentato, non eliminato. Ma era vivo. Tentò di incrociare lo sguardo del titano, di esprimere la propria gratitudine. Ma la testa gli crollò sul petto. Bob non può guarirlo, disse il titano. Troppo veleno. Troppe maledizioni accumulate. Annabeth cinse le spalle di Persi in un abbraccio. Questo lo sento, avrebbe voluto dirle lui. Ai! Stringi troppo! Cosa possiamo fare, Bob? domandò la ragazza. C'è dell'acqua da qualche parte. L'acqua potrebbe guarirlo. Niente acqua, rispose Bob. Il tartaro è cattivo. L'ho notato, avrebbe voluto dire Persi. Se non altro, il titano aveva parlato di sé chiamandosi Bob. Anche se ce l'aveva con Persi perché gli aveva cancellato la memoria. Forse avrebbe aiutato Annabeth, nel caso lui non ce l'avesse fatta. No! insistette Annabeth. No, ci deve essere un modo. Qualcosa per guarirlo! Il titano appoggiò la mano sul petto di Persi. Un formicolio freddo si diffuse sullo sterno del ragazzo, ma non appena Bob sollevò la mano, la sensazione di sollievo cessò. I polmoni di Persi erano di nuovo incandescenti come lava. Il tartaro uccide i semidei, disse Bob. Cura i mostri! Ma voi non siete di qui. Il tartaro non guarirà Persi. L'abisso odia la vostra razza. Non mi importa, replicò Annabeth. Perfino qui ci deve essere un posto in cui Persi possa riposare. Una medicina da prendere? Qualcosa? Magari all'altare di Hermes o... In lontananza, una voce profonda mughiò. Una voce che purtroppo Persi riconobbe. Sento il suo odore, ruggì il gigante. Attento, figlio di Poseidone! Vengo a prenderti! Polibote odia Poseidone e i suoi figli, disse Bob. È vicinissimo ormai. Annabeth si sforzò di rimettere Persi in piedi. Lui detestava farla faticare così tanto, ma si sentiva come un sacco di palle da biliardo. Perfino con lei che sosteneva quasi tutto il peso del suo corpo, si reggeva stento. Bob, io vado avanti con o senza di te, disse Annabeth. Mi vuoi aiutare? Bobbino mi agolò e cominciò a fare le fusa, strofinandosi contro il mento del titano. Bob guardò Persi, che non riuscì a decifrare l'espressione del titano. Era arrabbiato o solo pensieroso? Stava progettando la vendetta o era semplicemente offeso perché Persi gli aveva mentito? C'è un posto, disse infine il titano. C'è un gigante che potrebbe sapere cosa fare. Un gigante? Ci mancò poco che Annabeth lasciasse cadere Persi. Bob, i giganti sono cattivi. Questo è buono, insistette Bob. Fidati di me e vi porterò da lui. A meno che Polibot e gli altri non ci prendano prima.